Bentornati su Novo Ammazzo e bentornati nella rubrica fantasy, fantasy a fumetti, nella rubrica Bugs Comics, nella rubrica che parla di Calia. L'era dei fondamenti, oggi parliamo del numero 5, la città palazzo delle nubi. Quindi noi cadiamo dalle nubi e andiamo a vedere di cosa parla questo numero. I can't do this all on my own, no I know I'm no superman. Devo dire con sorpresa che mi sto abituando sempre di più al ritmo di Theia, di questo mondo immaginario uscito dalla mente creativa di Luca Lamberti e Leonardo Cantone. E nonostante abbia sempre un attrito iniziale a leggere un fumetto fantasy che è anche un bonellide, io non essendo a Bezzo, a Dragonero, faccio fatica ad associare una lettura anche di passatempo come quella di un bonelli o un bonellide, a un impegno come quello del fantasy. Quindi sono nuovo a questi due mondi che si incontrano per me. Cioè nonostante è passato quel primo attrito iniziale, nel momento in cui mi metto a leggere le storie dei nostri beniamini, perché ormai stanno diventando nostri beniamini, entro sempre più facilmente in questo mondo e non vedo l'ora di scoprire l'avventura che avranno in serbo per me in questo mese. Questo mese la storia è anche abbastanza semplice, non c'è chissà quale evento eclatante, o meglio c'è, ovviamente c'è uno sviluppo che porta a un evento sul finale, ma sembra quasi una storia un po' di passaggio che ci permette un attimino di rilassarci e ci fa imparare a conoscere meglio i personaggi, i nuovi personaggi, le nuove dinamiche tra i personaggi, dato che si è anche aggiunto Calon, che è questo elfo. Come sapete gli elfi sono tra i villain di questa serie, sono un po' i cattivi, sono particolarmente stronzi tra l'altro, seguono una sorta di loro credo, quindi li porta a essere particolarmente snob, particolarmente, non lo so, resti a collaborare con le altre razze, ma soprattutto seguono anche un loro capo, una loro guida, che vuole per la salvezza del loro popolo elfico sacrificare anche tutto il resto, sacrificare l'intero mondo di Theia. Nel gruppo dei nostri protagonisti, oltre a Kallia, che pare essere una Jaldest, ma forse non lo è, lo deve scoprire lei stessa, Aridan e Leia, che sono due esseri umani, e Tag, che è un goblin, si aggiunge anche questo personaggio, Calon, che è sì un elfo, ma è un elfo che è stato talmente corroso dal morbo pallido, che ha raggiunto l'ultima fase della, diciamo, della sua malattia, che è divenire uno spettro. Grazie però a degli esperimenti di questo suo, di questa sua guida, è forse l'unico spettro di morbo pallido che ha una coscienza intatta, quindi lui riesce a, diciamo, tenersi insieme, anche con l'aiuto dell'alchimia di Lena, e chiaramente per quello che gli è stato fatto è passato dalla parte del nemico, quindi non è un elfo che combatte con gli elfi, ma combatte con i nostri eroi, e questo lo rende un personaggio, già per questo, davvero davvero molto interessante. E devo dire che la parte più di chiacchiericcio, più di intrattenimento dei quattro protagonisti è forse quella che mi è piaciuta di più di questa storia, rispetto magari alla storia, al fulcro principale, ovvero l'incontro con i nani, che in questo contesto sono appunto una razza che è venuta a contatto con uno dei fondamenti che ha a che fare con la gravità, e da lì la loro, come si dice, diversa altezza rispetto agli altri popoli, perché appunto hanno subito delle variazioni di gravità in antichità che li hanno portati ad essere più bassi. Però ecco, a parte questo, che comunque introduce un nuovo popolo, il popolo dei nani, mi è piaciuta molta di più l'interazione tra i protagonisti. I nani, si sa, non sono tra le persone più socievoli del mondo, sono sempre molto orgogliose del loro popolo, sono sempre molto restie ad accogliere gli stranieri. Qui però sembrano anche molto bigotte, molto fastidiose per interagirci, ecco, per intendersi. Questa parte un po' bigotta di questa popolazione nanica che pare tra l'altro essere una sorta di costola separata dal popolo nanico, mi ha fatto venire in mente due cose. La prima è che anche in questo numero vediamo prima l'eccezione e poi la regola, che per carità va bene per una persona che appunto mangia un sacco di fantasy e quindi per variare. Questa è una ventata di aria nuova. Chiaramente per me, che voglio un approccio molto classico al fantasy, gradirei vedere prima gli standard di Theia, quindi i nani di Obur, e poi vedere magari delle sette separate. Questo per farmi capire com'è, diciamo, la base, com'è la prassi, com'è lo standard, per poi vedere appunto delle eccezioni. Questo mi permette di capire meglio il mondo di Theia. Qua invece mi sembra che anche in questo caso abbia visto prima una piccola eccezione rispetto alla norma dei nani. Però, cioè, può capitare, voglio dire, nel mondo, nella vita reale, questa cosa può capitare. Quindi mi devo anche un po' attaccare al cazzo. L'altra cosa invece che mi ha fatto venire in mente questo numero è che sì, è un numero ambientato nella terra di Theia, è un numero fantasy, ci sono i nani, ma questa setta un po' bigotta che pratica un culto verso qualcosa di misterioso e oscuro mi sembra anche una strizzatina d'occhio a un numero di Samuel Stern, a quello che potrebbe essere un numero di Samuel Stern. questa cosa la si può prendere o in modo molto negativo o in modo molto positivo della serie. Uno potrebbe dire ah, è una storia di Samuel Stern messa con i personaggi di Kahlia. In realtà io l'ho apprezzata come cosa, ho apprezzato, non so se è evoluta, ma ho apprezzato un po' la strizzata d'occhio. Anche qua, anche in questo fantasy, c'è dell'oscurità, ci sono delle persone volte, a culti molto di dubbia moralità, volti a culti molto oscuri e che possono portare a nemici davvero pericolosi. Proprio grazie a questo culto i nostri eroi hanno avuto, diciamo, filo da torcere con il nemico della settimana, il nemico del mese che appunto spunta, diciamo, è legato a questo culto nanico. Anche il nemico mi pare sia una cosa un po' nuova, una cosa che non abbiamo mai visto, una cosa che ci hanno spiegato strada facendo. Magari leggendo il mondo di Teia, libro che non ho ancora finito, per carità, quindi ci può stare, magari leggendo il mondo di Teia si scoprono più cose, quindi si ha una conoscenza più approfondita di quello che invece così sto scoprendo mano a mano. Quindi il punto è, adesso che mi sono affezionato ai personaggi, mi è venuta voglia di riprendere la Bibbia di Teia per capirli, comprendere meglio la storia, la risposta è sì. Ora bisogna solo capire quando avrò il tempo di farlo, però c'è molto interesse nel continuare la lettura del mondo di Teia, libro che trovate sul sito della Bugs Comics o negli eventi Bugs, dove lo stand Bugs Comics è presente ufficialmente, trovate anche il libro di Teia, cosa che tra l'altro io vi consiglio di fare, perché potreste magari farvi schiacciare o autografare la copertina. Per esempio questa è la mia copia del volume 1 del mondo di Kalia, Teia, la versione bianca, la copertina bianca, che ho acquistato allo scorso Luca Comics. Non ho molto da dire su questo numero, non perché appunto non mi sia piaciuto, però appunto, ripeto, è molto lineare, scorre bene, mi ha soddisfatto, anzi vorrei fare giusto un appunto sul finale, perché il finale apre appunto un piccolo, un epilogo su un altro personaggio che avevamo lasciato qualche numero fa, ovvero il Jaldest, che aveva contattato inizialmente Kalia per portarla in questa missione, semplificando molto la cosa. Ecco, assistiamo a questo Jaldest che avevamo visto che era stato rapito dai mercenari negli scorsi numeri, e qua lo vediamo finalmente liberarsi in qualche modo dalla prigionia. Ecco, devo dire che non è molto chiaro, proprio dal punto di vista... non lo so, grafico, nel senso che è... questo Jaldest è imprigionato dai mercenari, i mercenari però vengono uccisi dagli elfi che a quanto pare vogliono, non lo so, vogliono ammazzare il Jaldest, ma il Jaldest approfitta di questo trambusto per trasformare uno dei mercenari uccisi, dato che i Jaldest possono modificare la materia non animata, quindi priva di anima, quindi anche un cadavere, crea una sorta di gufo che prende le chiavi e che gli permette di liberarsi. Però non si capisce bene perché non si scontra con gli elfi o è giusto che non si scontri con gli elfi perché sono in combutta. Cioè questa cosa non l'ho ben capito il finale. Se voi l'avete capito, spiegatemi, lo ditemi la vostra, perché questa cosa a me non è chiara. Lo scopriremo nei prossimi numeri, per carità ci sta che un epilogo sia un po' enigmatico, fondamentalmente, perché ce lo spiegheranno più avanti, però non ho proprio capito la sequenza. Ecco, l'unico appunto che mi sento di fare. Per il resto, ve l'ho già detto, sono molto contento e mi è piaciuta anche la copertina. Mi piace vedere anche che colore ha Calon in qualità di spettro. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io come sempre, con l'inchino e con l'imbutto, vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Vi ringrazio per avermi seguito alla fine di questo video. Grazie ancora, arrivederci.